Se ci credete, uau, io in piani non mi sento. Ci credete, ci credete! Cento anni e non sentirli, parola di una rzilla signora di Adrano Maria Grazia Calcagno che ieri ha festeggiato il suo secolo di vita in un locale della zona avvolta dall'affetto dei suoi tre figli Antonino, Ancelo e Cettina e dei suoi tredici nipoti e ventidue pronipoti fra i quali piccoli Giuseppe e Leonardo che hanno festeggiato la loro trisavola per la supernonna di Adrano Maria Grazia una grande torte l'abbraccio di tutti gli intervenuti con i quali ha dialogato e scherzato con simbatia e la fierezza dei suoi cento anni cento anni stampati in un tenero sorriso alla festa di ieri invitata anche Tina Cancelliere e famiglia invitata nella veste di Tinuccia, come la chiamava lei e la Cancelliere poiché ricopre la carica di consigliere comunale lei ha rivolto gli auguri anche in rappresentanza delle istituzioni locali sono qua nei versi di consigliere comunale per fargli gli auguri da parte di tutta l'amministrazione comunale del sindaco e di tutti i consiglieri comunali che le augurano di cuore attraverso la mia persona tanti auguri di buon compleanno Grazie 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 Grazie